Questa è bella. Stai zitta per un secondo, per favore, non muoverti. Guarda che bel quadretto. Ecco svelato il mistero. Sei stato contagiato dal virus della pop band. È grave! Tu tieni la bocca chiusa e restai immobile per un paio d'ore. Così io posso studiare il virus e con un po' di fortuna trovare la cura adatta. Bocca chiusa e restai immobile. Cioè... Mamma? Come on baby, sto insieme a te. Oh, come on baby, tu sai perché. Io sto bene solo con te. Per sempre. Tranquilla, hai preso l'infezione del virus della pop band. Grazie alla nostra Didi. Per fermarmi non so come far. Se anch'io non mi fermo più. Figliolo, aiutami tu. E guarirai. E guarirai. Sei certo che funzionerà. Se la tua mente si schiarirà. E l'infezione del virus della pop band. E l'infezione sparrirà. Per sempre. come on baby, come on baby, sto insieme a te. Come on baby, tu sai perché. Io sto bene solo con te. Coraggio, premi il pulsante. Fallo, fallo, fallo. Ehi, Didi, aspetta un momento. Ormai hai smesso di cantare. Anche io ho smesso. Vieni con me. Voglio controllare i germi. Ora mi è tutto chiaro. La banda si è sciolta. Pare che uno dei germi voglia continuare a cantare da solo. Da solo non avrà successo. Può darsi, però sembra essere il processo naturale del virus. Stai tranquillo. Ormai i germi sono troppo deboli per contagiarci con la loro stupida canzone. Urrà, siamo guariti. È quel che mi auguro. Però bisogna aspettare fino domattina. Per sempre.